Grazie all'applicazione tempestiva di un procedimento di trombolisi intravenoso una giovane mamma e il suo bambino potranno continuare a vivere. L'episodio risale una settimana fa quando una paziente di 22 anni alla 38esima settimana di gravidanza è giunta al pronto soccorso di modica in gravi condizioni con i segni di un ictus celebrale. L'attivazione del percorso diagnostico-terapeutico assistenziale per l'ictus dell'aspo di Ragusa ha permesso di formulare tempestivamente la diagnosi di ischemia celebrale acuta. Il neurologo di guardia con il supporto del personale del pronto soccorso, l'unità di ostetricia e ginecologia della reanimazione del presidio ospedaliero del maggiore di modica ha subito impostato il trattamento di trombolisi intravenosa con RTPA attivatore del plasminogeno tissutale ricombinante. Si tratta di una terapia delicata e non priva di effetti collaterali che si attua in caso di ischemia cerebrale iperacute allo scopo di sciogliere il trombo arterioso ripristinando il normale fuso sanguigno celebrale per evitare conseguenze gravi per la madre e il figlio. La paziente è stata successivamente trasferita dalla stroke unit dell'ospedale di Vittoria. Dopo il ricopero e la presa in carico è stata sottoposta a taglio cesareo d'urgenza gestito dai reparti di ostetricia, ginecologia e di rianimazione del presidio ospedaliero del Guzzardi. Il direttore generale dell'ospediracusa Giuseppe Drago si complimenta con il dottor Antonello Giordano e con tutto il personale sanitario che sin dall'ingresso della paziente al pronto soccorso di modica ha attivato il PDTA dando prova di grande sinergia e competenza multidisciplinare.